In questa città c'è anche una bellissima statua che viene esposta in questi giorni, c'è anche una tradizione che si rinnova. Sì, ogni anno la statua che sta là nel suo altare la mettiamo più in evidenza e così lo possiamo guardare con occhi diversi, con occhi particolari. Poi la tradizione c'è una signora, una certa signora Lina Di Caro, devotissima di San D'Antonio e ogni anno prepara un abitino per il bambino Gesù che tiene San D'Antonio tra le mani. E quindi anche questo è un momento, è un'occasione di festa. Io naturalmente colgo l'occasione per invitare i devoti, i fedeli di venire, di partecipare. E' bello, sera per sera noi cominciamo a pregare all'esemeno un quarto. Facciamo la coroncina alla Divina Misericordia, il Santo Rosario alla Madonna, poi la novena a San D'Antonio, la Santa Messa e stiamo in ascolto, in ascolto. Signora, da dove nasce questa fede, questa devozione verso San D'Antonio e questo abitino che ogni anno cambia? Perciò questo abitino cambia perché mia mamma lo vestiva sempre questo bambinello. Un giorno mi è venuto così, io sono lavorato a Rallana, ho fatto un vestitino, sono venuto qua da Don Lillo, ce l'ho chiesto, Don Lillo gentilmente diceva bene. E sono 11 vestitini che indossano il bambinello di Gesù. Quindi 11 anni praticamente. 11 anni. Ogni anno resta vestito per tutto l'anno, fino al 31 di maggio. 31 di maggio. Allora quest'anno io ero confusa come dovevo fare il vestitino, il colore. Non mi veniva, non lo so come. Allora sono andata a letto con quel pensiero e ho sognato che io veniva a San Francesco. Davanti alla porta c'era tanta gente che forse aveva finito la messa, non lo so. Davanti alla porta c'era un bambino piccolo con una bandierina rosso, bianco e verde. E allora quel bambino si è avvicinato a me. Dice signora, che vuoi? Guarda questa bandierina, a me questi colori mi sono piaciuti sempre. Poi non finisce qua. Dice il verde è la nostra speranza della vita. Il bianco dice la purezza e il rosso sono i nostri peccati. Mi sono girato e non l'ho visto più. Allora dico, più bella occasione di questo. Significa che questo bambino vuole, e penso che sarà il bambino Gesù che vuole il vestitino bianco e rosso. Quindi il verde e bianco e rosso, i colori della nostra bandiera. Quest'anno il vestitino fatto in questo modo. Tra l'altro poi indomani si è fatto anche il governo, San Francesco è padrone d'Italia. Ancora non finisce qua. Il 31 sono venuta qua a vestire il bambino Gesù. Quando ho finito di vestire il bambino, mi è sussurrato una cosa che dice hanno fatto il governo. Allora ho detto, bravo Gesù Bambino. Due miracoli in una volta. Ancora non finisce più. ه